Il Napoli anche in questo caso sul giocatore che tra l'altro avrà l'ultima parola, deve decidere lui, sembra un po' titubante, c'è anche il Milan e nonostante per ora il club rossonero abbia scelto di dare fiducia al giovane Petagna, ha comunque estimatori anche all'estero, Matri si parla del Sunderland, il Sunderland italiano ben conosciamo di Paolo Di Canio, avrebbe chiesto alla Juve la disponibilità a cederlo in prestito, per adesso non se ne parla, per Matri si parte da un'offerta di circa 12 milioni, Matri resta la prima scelta del Napoli, ci sta pensando, la decisione spetta principalmente a lui, se decide di andare sarà un nuovo giocatore di Benitez, c'è un nuovo giocatore invece che diventa di Maran e soprattutto del campionato italiano, dovrebbe approdare, anzi è già approdato in Italia e arriverà a Catania prestissimo per le visite mediche, stiamo parlando, eccolo lo vedete nella foto, proprio appena atterrato del difensore argentino Gino Peruzzi, atterrato a Catania, la sua prima foto dopo l'arrivo in Sicilia è stato acquistato dal Velle Sarsfield, a titolo definitivo, operazione da 3 milioni e 400 mila euro, più il 15% sulla futura rivendita, oggi sosterrà le visite mediche come detto e poi in caso ci sarà l'ufficialità. In attesa... 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 Grazie a tutti.